Le bollette del gas ci sono aumentate del 40-50%, mentre le bollette della corrente sono aumentate in alcuni casi anche del doppio. Devo specificare solamente che questo aumento è iniziato nel novembre del 2021, perciò è iniziato quattro mesi prima della guerra in Ucraina. Io fortunatamente non uso il gas, non ho cannafumaria e per la mia attività uso soltanto la luce, è praticamente più che triplicata la bolletta rispetto all'anno scorso. Io pago pochissimo di gas perché non uso i riscaldamenti, perché ho i condizionatori e non uso i riscaldamenti, però alle stesse condizioni in cui io faccio adesso, facevo prima. Prima pagavo 250 euro ogni due mesi tra luce e gas, oggi io pago 300 euro solo di luce ogni due mesi. Sto preparando le candele perché dalle 20 alle 20 e 30 spengiamo tutte le luci per far capire ai nostri clienti, quindi all'opinione pubblica, le difficoltà che stiamo avendo con gli aumenti dell'energia elettrica, che sono veramente insostenibili. Nell'ultima bolletta c'è stato un costo triplicato da 2300 euro a 6950, il costo al kilowatt è passato da 0,11 centesimi a 0,44, credo sia necessario un intervento da parte del governo che in qualche modo faccia ridurre questi costi.